Buonasera a tutti e bentornati. L'oggetto che voglio presentare questa sera è un oggetto che avete già visto ed è sempre inerente alla saga di Harry Potter. Allora come potete vedere questa è una scatola che contiene una delle bacchette versione Ollivander. Come potete vedere sotto troviamo sempre TM Warner Bros. Il fodero è fatto sempre di legno pressato che sembra quasi plastica vedete si apre chiaramente come gli altri scatoli di bacchette e qui troviamo prima di ogni altra cosa HP la licenza quindi Production Spirit by the World of Harry Potter. E poi c'è scritto questo documento che certifica che la bacchetta inclusa è una perfetta replica della Warner Bros. Picture Harry Potter del film della serie ed è della Noble Collection. Poi ci sono sempre gli strass quindi questo qui è di colore rosa con i margini verdi. All'interno è sempre foderata di cuscinetto di quella speciale setola quella spugna molto morbida. E poi c'è la bacchetta che è questa qui eccola qui questa è la bacchetta di Hermione Granger ed è una bacchetta versione normale nel senso che non è come quella che mostrai nell'ultimo video con la luce oppure quella lì in bronzo. Questa è di normalissima resina però anche se è normalissima resina è una bacchetta ben fatta vedete è molto lunga. Hermione la imbugna in vari modi io. Allora come stavo dicendo anche qui non so se si vede dallo zoom c'è il marchio TM. Non si vede lo fa apposta scusate. E come potete vedere è ornata seguendo un motivo a foglie vedete è molto fedele all'originale. Si vede meglio da lontano. E niente è questa è la bacchetta di Hermione Granger ed è di bacchette non ne presento molte perché ripeto sono quasi tutte uguali alla fine dei conti cambiano forse cambia il colore cambia qualche accessorio. Però ad esclusione di qualche bacchetta particolare che forse presenterò diciamo le altre sono quasi tutte quante. Grosso modo così magari può cambiare la serie la scatola che non è di Ollivander ma di un'altra raccolta però sono quasi tutte così. Bene questa era la bacchetta di Hermione Jane Granger. Vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.